L'oggetto del contendere sarebbe la classificazione idea di secondo livello per l'ospedale clinicizzato di Chieti. Una carel che ha fatto scendere in campo Partito Democratico, Forza Italia, Nuovo Centrodestra e anche Medici. L'area metropolitana Chieti-Pescara ora sembra trasformarsi in un derby su chi otterrà il titolo. Ma è proprio il primo cittadino di Chieti a mettere i puntini sulle I, circa dettami del Ministero e guerre politiche del territorio. Questa è una cosa che deve smettere. Questa è la regione dove per far fare il primario a qualcuno costruivamo gli ospedali. Adesso se dobbiamo accettare che il primo che si alza la mattina possa chiedere di avere cose che non stanno né in cielo né in terra, allora forse è bene recuperare la razionalità delle cose, recuperare un criterio di assoluta certezza sui numeri. E allora dico che se qualcuno contesta l'attuale definizione del DEA di secondo livello, bene, sono d'accordo con quella persona e allora facciamo il DEA di secondo livello soltanto a Chieti perché solo Chieti può avere numeri, strutture, spazi, università per poter avere il DEA di secondo livello. Le dico di più. Se c'è qualche politico che si è venduto i tre reparti di politico o universitario, sia ben chiaro, che si è venduto i reparti che oggi sono presso l'ospedale di Pescara universitari, riportiamo quei reparti a Chieti perché la sede naturale è quella dell'università d'annunzio di medicina di Chieti, non certo un ospedale diverso dalla sede universitaria. In realtà a livello normativo non si capisce se ci sia una limitazione di presidio o soltanto di area quando si parla di area metropolitana, il che vorrebbe dire che in qualche caso non sarebbe esclusivo di un ospedale o dell'altro. Esiste un'area vasta tra Chieti e Pescara dove dovremmo cercare di non cumulare i servizi. Ecco perché dico che alla fine il DEA di secondo livello non mi piace, ma se questa cosa deve essere minata rendendo la mia città e il mio ospedale e la mia università in qualche modo, non rendendo a queste tre unità, a questi tre contesti il giusto riconoscimento, beh allora rispingiamo, rispingiamo qualsiasi forma di neocentralismo adriatico e rimettiamo invece la palla al centro con competenze, con capacità, con numeri, con qualità che credo il nostro ospedale possa esprimere totalmente insieme alla nostra università.